Bentornati all'ascolto del mio audio. Purtroppo con tristezza e dispiacere annuncio oggi che Franco Battiato, il grandissimo cantautore, ci ha lasciati. Erano ormai già due anni che si era ritirato in silenzio e aveva lasciato la vita pubblica andando a vivere nella sua casa siciliana di Milo. È lì praticamente che come la sua vita anche la sua morte sarà per sempre avvolta nel mistero. Infatti lui nel più assoluto riservo ha preferito non condividere con nessuno questa sua malattia. Questo è un lato del suo carattere che chiaramente è emerso anche da sempre nelle parole delle sue canzoni. È sempre stato in un certo senso una persona molto enigmatica, per questo forse non potevamo aspettarci niente di diverso da lui. Tutte le sue canzoni infatti, i suoi testi, sono stati alimentati da versi criptici e con messaggi nascosti tra le righe. Lui pesava ogni singola parola, valutava ogni vircola e ogni pausa di ogni sua frase e verso per dare una dimensione aurea al personaggio e alla musica. Forse anche la sua ultima canzone aveva dei messaggi nascosti tra le righe. Quello che è vero è che praticamente quando cantava la vita non finisce finché saremo liberi torneremo ancora. Lo sai che il sogno è realtà. Queste sono le parole appunto della canzone torneremo ancora. Impalpabile nei suoi ultimi anni di vita, così come l'era stato nel videoclip dell'ultima canzone pubblicata, Franco Battiata ha consegnato il suo nome alla storia della musica e dell'Italia. È stato musicista e un paroliere visionario, i cui testi non erano per tutti, incomprensibili e geniali. Oggi comunque io credo che anche i più giovani sanno cantecchiare almeno una strofa di una delle sue canzoni. Mi dispiace, sono commossa perché sono veramente dispiaciuta. Quello che devo dire è che un suo caro amico tempo fa aveva composto per una poesia, l'aveva pubblicata su Facebook. Diceva così, ode all'amico che fu e che non mi riconosce più. Questa poesia rimase soltanto pochi minuti online, giusto il tempo perché si facessero le più varie considerazioni sullo stato di salute di Franco Battiato. Comunque per rispettare la volontà del maestro non ne parliamo assolutamente più e a lui rivolgiamo il nostro saluto e il nostro ringraziamento per essere stato veramente un grande. Con questo mi scuso per esservi commossa e vi invito a lasciare un vostro commento se vi va. Vi ringrazio per l'ascolto, alla prossima!